Damir Seter, benvenuto a Pescara. Intanto, quali sono le prime sensazioni dopo le prime settimane di lavoro? Grazie mille per il benvenuto. Una settimana molto bella dove adesso mi sto abituando a tutti i miei compagni. Spero fare molto bene rispetto all'anno scorso e spero poter fare molto, molto, molto di più, come ho detto prima, l'anno scorso. Quindi le sensazioni adesso sono abbastanza positive. Senti, con la ternata abbiamo visto centro-avanti. Ti ricordiamo nel Chievo giocare esterno. Qual è il tuo ruolo prediletto? Il mio ruolo prediletto è il centro-avanti. Tutta la mia carriera l'ho fatto del centro-avanti. L'anno scorso ho imparato un nuovo ruolo. Posso dire che ho imparato a fare la punta esterna. E quindi è una cosa molto bella come calciatore, avere la possibilità di giocare non solo in un ruolo, sino in due o in tre. Fioccano i paragoni. Il presidente Sebastiani ti ha definito una sorta di zapata. È molto impegnativo. Sì, no? È bello che io come giocatore vedano questa qualità. È un po' simile a quello che fa Duvan. Per me è un piacere. Spero fare molto di più rispetto all'anno scorso, come ho detto. E poi vediamo con il tempo se posso diventare un giocatore a un livello così o un po' meglio, se è possibile. Il percorso verso la Coppa Libertatore è Schintero, che è un tocco nazionale e lo ha iniziato proprio da Pescara. Sì, ho fatto un anno qua con il Pescara. Spero io fare molto bene. La mia mentalità è rappresentare bene il mio paese, il mio paese come sono colombiano. Quindi spero godermi quest'anno con tanta felicità. Cosa ti ha spinto a scegliere Pescara? E ci sono tanti attaccanti che fanno bene qui a Pescara. Quindi anche io voglio essere un attaccante importante. Senti, il calendario, guarda caso, dice che la prima giornata c'è Pescara-Chievo. Una bella coincidenza. Sì, per me è una bella partita. Ovviamente voglio segnare, voglio fare lo meglio, lo meglio possibile. E quindi adesso... E gutterai contro il Chievo? No, no, per rispetto penso di no, ma non si sa mai mai.